E ora Stella, siamo arrivati a un momento molto apprezzato dalle nostre telespettatrici, quello in cui il bravo Masterchef Emanuele Di Ghiase consiglia qualche meravigliosa ricetta VEG. Oggi prepariamo un primo piatto per una domenica speciale. Le lasagne di patate, funghi e besciamella. Iniziamo subito con gli ingredienti. 6 patate gialle tagliate a fette, 250 g di funghi tagliati a fette, una confezione di besciamella vegetale, olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, un pizzico di sale e del prezzemolo tritato. Per prima cosa foderiamo degli stampini con della carta da forno. Nel frattempo saltiamo i funghi tagliati a fette con olio, sale e lo spicchio d'aglio. Poi montate a strati, patate, funghi e besciamella. Ripetere l'operazione per 3 o 4 volte. Cuociamo il tutto in forno a 200 gradi per 20 minuti. In pochissimo tempo avrete un piatto gustosissimo da offrire ai vostri amici, mangiando qualcosa e non qualcuno. Buon appetito!